30 allora prossimo periodo atr prossima stagione quindi 18 no il 92 diviso 3 fa 26 52 70 30 60 90 si ok la mod è graphic ui graphic ui 7 diviso 3 2,5 2,3 per la prossima stagione no e si può scoprire cerca minatore ok allora 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 noi vogliamo una cosa importante dopo se se riusciamo ad averla non so pranzare sporca possiamo anche sostenerla 1v1 su fifa non credo di aver tempo ormai sono qua chissà il 4 per cento buono si andiamo 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 5 per cento di vai a vedere così no ok va bene così quando esce 25 volentieri tanto 40 giorni va bene un milione dio un milione atto ahhh 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 eh beh mi ricordo mai allora basta adesso tolleranza alla sporca anche bah anche meno adesso mi sono rotto il cazzo andiamo a favorire le alte velocità medie bene così un milione ok manca un'ultima ricerca che però se la facciamo adesso scoppiamo malamente quindi non la andiamo a fare contabilità ahhh prossimo gran premio tra due giorni ma in teoria che giorno è oggi il calendario cosa dice il calendario cazzo il mese prossimo ci mancano soldi raga in teoria però non abbiamo godo allora in teoria oh godo quanto cazzo godo perfetti perfe 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 perfetti perfe perfetti perfetti oh 3 novembre con me auguri no no non ancora ehm ok manca ehm devo andare a sviluppare un un'alettone posteriore no no non andiamo a sviluppare alettone posteriore me ne frega un cazzo non me ne frega scusatemi sono molto contento in verità di questo grandissimo risultato da parte del team tatum 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 Quindi 3-0 Della Juve Allora Io ho fame ragazzi che faccio Che faccio se ho fame Che faccio che ho fame Allora Forse faccio un'altra vista da dopo Vediamo Che problema hai? Setup? Non hai più soldi? No scherzo Oh controllo Amma mia Provazione strategia Limite di spesa Ehi, 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 amico E come fai ad andare di birretta con te fammi, caro? Ma? Come fai, Lore? Sarebbe una bella... Non so, ho scoperto Deliver ultimamente, sapete? Non so se lo conoscete Delivero La macchina com'è messa? Ehi, ottava forza Settimana Settimana Sapete che cosa? Abbiamo Credo che abbiamo superato di gran lunga La Sauber Quindi siamo almeno non a forza Credo anche Con l'Alpine Con l'Alpine a volte se la giochiamo Ma siamo superiori E anche davanti alla Williams Quindi siamo a settima forza di fatto Settima forza Come siamo anche in classifica Mmm, check Telegram No, eh No Non mi dire Non mi dire che È quella che penso Sì, però Senta scrivere Pub Hai mai visto Le immagini storiche Della No Ma non è Perdonami No, vero Fra Ma si assomiglia un sacco Questo setup Posso dirti la verità Comunque non so No Allora Come che è morto? Ma come che è morto? Che è morto? Si, mandamela Sul Telegram Che è morto? Eh? Ma in che senso? Buonanotte, Nico Ma che cazzo state dicendo? Ragazzi Ho capito Eh Non ci stiamo capendo Andiamo di Di Delivero Eh Mi avete rotto le palle Un abbraccio tecnico Andiamo di Delivero Domani tanto Master Kebab Ma Allora Io con Delivero Ragazzi Non ho mai Ho ordinato L'altro gioco Ma Master Kebab Mi ispira un sacco Però eh No Master Kebab No Ciao Cucciolo Buonasera Cucciolo No Master Kebab Non posso Ma chi è morto? Perché? Chi è morto? La birra Amoretti Nutre Un litro Equivale Ah Non Non berrò La birra Amoretti Sì Facciamo anche Brasile Ragazzi Sì Sì Facciamo anche Brasile Allora Io avevo voglia Di un toast Toast C'è qualcosa Aperto? Tramezzino C'è qualcosa Io ragazzi Non so Sì Cucciolo Dimmi tutto Io ragazzi Adoro i tramezzini Non ci posso Fa nulla Ultimamente C'ho una voglia Di tramezzino Però non ce ne sono Ho una voglia di tramezzino Che non ha idea Non avete idea Eccolo qua Però c'è questo Crispy avocado toast E mi sa proprio Che E mi sa proprio Che Vado al pagamento Però consegno domani Le 9.45 Mi pare no Ma mica le 9.45 Cazzarola No 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 Ah Sì Cucciolo Che impostazioni Hai usato Scusatemi Ragazzi Sono veramente Molto 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 Affamato In questo Momento Che mi prende Un chicken McNuggets Con la salsa Piccante Dai Va bene Via Va bene Va bene Va bene Dai 6 euro Ma come 11 euro E 90 Ma scusami Se costa 6 euro E 90 La mancia Ma come Tutta l'ordine Supplemento Di 2 euro 12 euro Per 6 Chicken McNuggets Ma io ci vado Dopo live Va bene Ma Ma io no Ho la spedizione gratuita E non capisco per quale motivo non ce l'ho Non me la dà la spedizione gratuita No raga ma io non posso Ma dai non posso andare a pagare 11 euro per un chicken mcnuggets Ma vaffanculo Amos dai No non ci vado a pagare 11 euro No scusatemi sono molto 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 deluso Scusatemi è importante questa roba qua Consegna domani Old Wild West domani 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 Ci vado dopo live Ma io non Ce l'hai una pubblicità della Tassoni Lorenzo Riguardo a quanto consuma una Tassoni Il fatto di Carboidrati Il master kebab No no non mangio Non mangio non mangio Domani domani Oh mio Dio Oh mio Dio Bellissima Ragazzi è vero questa volta Questa volta Vi ricordate quando avevo in mano questo Che ho detto così sembra ma Letteralmente questo è un kebab Sono io questo Bellino Madonna Allora Vado alla contabilità Eeeh No 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 Su quello mi dispiace ma non c'è niente da aggiungere Dovessimo superare il limite non solo riceveremo un'ammenda ma non saremo più autorizzati a investire nello sviluppo Quando ridurrebbe l'influso nel consiglio Quindi un margine di 12 milioni abbiamo ragazzi eh Ma dice veramente che abbiamo un margine di 12 milioni Eh si 12 milioni e 2 Ma ce la facciamo 12 milioni e 2 Uh Non lo so eh Programma addestramento Proviamo a fare una roba folle Allora Ok Andiamo una roba Facciamo una roba Facciamo prove 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 Ok Poi arrivano Esausti Arrivano Esausti Ok Esist C'è proprio Esausti Esausti Non me ne frega un cazzo Oh lo proviamo Non mi interessa Lo proviamo Basta Tanto siamo a fine stagione Non so perché è scritto setup Anche tu Non sei messo molto bene Rischiamo dai Tanto Che ci fa Siete d'accordo con me Ah Infatti A parte che poi devo darvi anche la Prediction Pato ha fatto Sedicesimo Mi pare No Cosa ha fatto Pato P16 Perfetto Scusami Scusami Non ho visto Non ho più visto Un secondo Allora Devo iniziare Non ho visto Allora Io ho iniziato Con tutto al minimo E al momento Sono 7 Con 6 punti Soffrendo come un cane Ma mi sto divertendo Davvero tantissimo Prendi il tuo pilota preferito È un pilota giovane Magari che può fare esperienza E cerca di limitarti tantissimo Con le componenti Non spendere Spandere Usa anche il motore al pin Cioè Renault Per consumare leggermente meno E fidati che può andare solo che Solo che Che bene Io ho queste persone qua Come vedi Nel personale 84 82 83 di overall Diciamo di media E basta Ora Puoi prendere anche i miei piloti Volendo che sono molto forti Lui era 84 Mi pare 83 E lui era 78 E Vanno forte O quantomeno Non sono Piloti che vanno a sbattere Questo è molto importante Io per esempio Sto risparmiando Centelinando ogni cosa E Fortunatamente Ho dei piloti Che non vanno a sbattere Basta Basta Speriamo di no Vediamo un po' Tassoni che dice Tassu 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 Davvero Che il gran premio Offrono l'occasione Per guadagnare punti In classifica Quali sorprese Riserverà il weekend Non ci resta che scoprirlo Oh Pioggia leggera Tanto Anche Io ti direi difficile Cucciolo Allora è la prima volta Però Fai le cose difficili Poi si vede che è troppo difficile La rifai E metti normale Pioggia leggera Pioggia leggera Oltre lo streamer Cosa faccio Gestisco il team Lamborghini Gestisco un nuovo team E-sport Che viene annunciato a breve Anzi questa settimana Poi tra l'altro corriamo Gestisco Il mio proprio team E Tante cose belle Tante cose belle Eh si vanno tante cose belle Allora 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 In tutto questo Gomma dura Sì gomma dura Componenti auto Pelaio No ancora no Anteriore abbiamo sempre quello Posteriori andiamo qua Ok Sospensioni Non abbiamo altro Ecco vedete Vedete le componenti Siamo fortunati che i piloti Al momento Non sbattono Però queste sono le componenti Che abbiamo Ecco Sicuramente Purtroppo Noi andremo a spendere qualcosa Ehm Di importante Quali le componenti Ehm Non c'è niente da fare Anzi che io provo adesso Una cosa folle Mettere l'Hersa al 2% Lo so che tanto è Però purtroppo Vedete Ci sono componenti Che costeranno tanto Pato Pato Tecnicamente Ha Componenti Danneggiati di suo Dovremmo spendere 2 milioni e mezzo Ma non voglio farlo Team Lamborghini eSport Tutto eSport Ehm Vedete ragazzi Cioè io non so cosa fare Non so cosa fare Con Pato Non so cosa cazzo fare Con Pato Porca di quella Miseria Questo è buono Come setup Grazie Grazie Fabio Grazie a tutti i ragazzuoli Che si abbonano ragazzi E' molto importante Abbonarsi al canale Per supportarlo Tanto 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 Ehm E' molto importante Mi raccomando Mi raccomando Vedete Poi uso componenti Ecco vedi cucciolo Poi uso componenti vecchie Una volta che produco componenti Noi uso componenti vecchie E Questo aiuta A non consumare E non Ehm Avere Magari Rotture di cavolo Se si dovessero rompere Le componenti Insomma Sei un pochino protetto Da questo punto di vista Non facile Da prendermi un'altra da sola Intanto io E' l'ultima Occhio perché abbiamo Solo Ed esclusivamente Questa sessione Sportivo vero Andiamo Un'altra Un'altra Noi, 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 noi Noi, 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 noi Comunque domani vengono i miei Mia mamma e il compagno Dopo più di un anno a casa Domani non ci sono Tra l'altro rivedono la ragazza Sarà particolare sarà Che loro è da più di un anno Che praticamente non vengono in questa casa Non è che li invito a casa mia Vado io da loro Ovviamente sono più sgame e tutto Ovviamente sono io quello che si muove di più Stanno a 40 minuti di macchina Però sono emozionato Perché c'è la donna delle polizie Che ha fatto un buon lavoro Ma però non si può dire Però devo sistemare ancora un po' di robe C'è la pioggia E possiamo andare avanti Non male Soddisfazione è stato buona Non male Non male Pioggia che non è che aumenta Foggio di tanto esponenzialmente Infatti Oh buona Dai 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 Setup non sono male Il che è importante 65% ragazzi Cos'è la setup era di pato? Era di patato Non male Perse la prima Minchia Non male però Siamo qua Siamo proprio in realtà Com'è? Com'è? E' mo' Ok Ok Dovrebbe rimanere quella lì L'intensità Dovrebbe rimanere Da Dal sotto C'è ancora fra? Posso vedere come sta andando con setup Ok Come va con setup quindi? Abbiamo bandiera gialla Ragazzi Gara Sprint Pato Ma Magnussen Quanti danni fa Raga Dio Spero che nessuno Deve preso Magnussen Un momento la pioggia A me quel tipo lì In setup non pensano proprio Voglio continuare con queste gomme ragazzi E' importante L'ar sommes ucks Allora Allora affio Sperto Allora Questa Allora Mi Questa L'arggio про Questa 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 non voglio usare le gomme intermedie qualche rischio sta staccando la pioggia siamo settimi, Filippo dai, è buono, 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 buono let's go sono settimo ho detto nono, volevo dire settimo ok per quanto mi riguarda comunque ragazzi sono tornate sono tornate le le stream squad c'è una nuova modalità per farle stream squad, le streaming congiunti oggi mi è arrivata la notifica e oggi ce l'ho sul gestore del streaming su nuoda con la pinto penalità quindi sarà sargent penalità ok ok dai preparati di pilota non sono manco così tanto male benvenuti a tutti siamo alle qualifiche per la sprint i piloti sono quasi pronti sarà brava sarà sarà brava con la lingua eh vabbè ho detto ho detto purtroppo devo andare già con le componenti migliori ragazzi la prossima è la prossima è las vegas maro 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 vorrei fare un downgrade ragazzi incredibile poi io non voglio più usare soldi non avete capito è 1% wow vado con addirittura le componenti danneggiate con piastre wow va via così va tutto così e andiamo ad affrontare la mamma mia tutto tutto eh buongiorno fra è bravo guaglione si che bravo bravo guaglione cassetto ok so should be pit later open Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eh, ma era 1.20 che era da subito, carata. Non fa niente. Ok. Ma in verità non è male comunque, potrebbero farsela comunque, tutti e due. Sì. Sì. Bene. Ma no, Zenzy, perché con la sprint si deve usare per forza la media. Ah, beh, bravo però. Hai ragione. E infatti me la dava. Bravo, Zenzy. È vero, 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 è vero. Ora capito cosa intendi. Sì, sì, è vero. Andiamo, 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 andiamo subito in pista. La pista dovrebbe peggiorare d'ora in poi, andiamo, 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 andiamo a peggiorare la pista. Non peggiorare la pista. Non peggiorare la pista, niente. Dobbiamo peggiorare la pista però, no? No, vabbè, è costante. Vabbè, andiamo ancora con questa gomma. Vai, Zenzy Smic, no, Anna Smic. Zenzy, eh, Zenzy Smic, effettivamente, ha detto giusto. Come fai a migliorare mo' qua? Non riusciamo a tornare in pista, eh. Qual è il problema? Ma il carburante me lo metti tu, il carburante? Dai! Oh, va bene. Bene, questo meccanico è fatto. Bene. Abbiamo problemi con, abbiamo problemi con, con le robe ragazzi, non con le favori uniti, quindi... Siamo tornati ed è tutto pronto per rientrare in pista, con i piloti che si preparano alla sprint. Dopo una lunga stagione siamo all'ultima sprint del calendario. Con questo circuito le occasioni per sorpassare non mancano, quindi penso ci divertiremo. La prospettiva di portare a casa i preziosi punti extra destinati ai primi classificati spingerà le squadre a dare il massimo. Di sicuro oggi si preannuncia una battaglia in pista, qui alla sprint di San Paolo. Allora, regia, non... In verità verrà, in verità verrà piovere. In verità verrà piovere, ragazzi. In verità verrà piovere. Ma non verrà piovere davvero, però. Andiamo. Stroll è parte in pole. E via partiti. Va bene. Do everything you can me. E io. Copy. Let's try to see what you can do. Copy. Energy available. Copy. Sì, Gianluca, me l'avete detto, me l'avete detto. No, a fondo tutto, sì. Vediamo, vediamo. Curioso. Hai visto che bello è lo sponsor? Piastro in lotta. Fato guadagna posizioni. Fato guadagna posizioni. Fato guadagna posizioni. Fato guadagna posizioni. A ventura posizioni. Piastri può andare là Può stare tranquillo che tanto c'è giù dietro Fatto purtroppo non ne ha Come fanno a rientrare nel gruppo? Due posizioni perse, bravo Altre posizioni perse, bene Quanto piano vanno? Non è che abbiamo componenti usate, ma quanto? Dai ma anche Giova è più forte di noi Ma che vuol dire? Ma stanno girando tanto più piano ragazzi Perché hai componenti molto usurate E' vero anche che questa gara qua abbiamo deciso di farla così Sì, dentro c'era anche un investitore Un imprenditore molto importante E la gara è quella che è Eh, è sempre volenti È un po' più l'effetto Adesso Piazza che può passare Cosa che non fa facilmente L'ho capito Ho arrivato a usare il cambio Non possiamo farci nulla Inizia a pioggia ma non ci interessa Tanto usura davanti Penso che con le ultime andranno a fare la sosta Award ultimino Ultimissimo A questo punto quanto siamo da leader? 21 secondi Mamma mia ragazzi Mamma mia Questa sarà una gara veramente Eh si Da Singapore poi stiamo prendendo Tutta molto chill Ci mancherebbe altro Ciao ciao Molta pocosura della gomma Eh esatto Jumpy Ciao caro L'obiettivo è non sporare il budget capo Una volta che Stiamo dentro Andiamo a dare un po' di Di brio Provo il mini un po' Ok good jump No panda Non dovrebbe essersi Catering Quindi si gira alla fine Nove giri fatti Inizio minuto Disvantaggio In teoria Credo che andranno a fare la sosta A questo punto davanti O no O sono io scemo O credo che andranno a fare la sosta Alcuni Eh non possono durare Tutto il tempo così Ma si ma certo 100% Grip Quello che è Ok la pista Eh ma piove Ma non piove Infatti vanno tutti i box Intermedia Ma come intermedia Ma no pazzi Pazzi Ma no 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 Per me non è giusta Come strato Ma non è giusta Per me come strato Viti tutti Oh no 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 Sosta i box Troppo lenta Ok Sì sicur Potrebbe andar bene Potrebbe andarli bene Su Vabbè Ci potrebbe andare bene Comunque È Spato che sta avendo problemi Stop the liftoff please So now we prepare for a good defense Ora ora piove Ora piove Ora piove Ora piove Ora piove Ok ora piove Non Dovremo essere salvi con piastri Però no Sì orì Rimane costante Ok è lì In verità è lì Andiamo We can push more Elbows out keep him behind you dai cerchiamo di tenere la posizione guarda un giro di svantaggio ok poi mettiamo le componenti un pochino migliori e non ci vediamo adesso è bagnata ma te l'abbiamo provato 2 cars out A lot of debris Uh out per shore Ok Non siamo noi Bene Ok Safety car Va bene Safety car all'ultimo giro Bravi Praticamente L'Eglary of the Saper Ha fatto un altro mestiere Oggi abbiamo assistito A una competizione serrata E questa sprint ha lasciato diversi piloti A bocca asciutta Purtroppo ha chiuso la gara in P21 Eh una delle peggiori prestazioni queste Però va bene L'accettiamo 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 Allora Fatto in Q1 Adesso Eh 4 gare mi pare Fue una sofferente ragazzi Lo so ma in questo momento Dobbiamo Lavorare così Per le qualifiche Occhio di più Vediamo chi riuscirà a farsi valere in griglia I piloti devono arrivare al Q3 E se puntano alle prime 10 posizioni in griglia La posta in gioco è alta E non c'è margine d'errore Mentre ci prepariamo alla sessione di qualifiche La tua opinione sulle prestazioni di Lando In prova ha segnato un tempo sul giro pazzesco Quindi ha tutte le carte in regola Per fare bene nelle qualifiche Pioggia è leggera Siamo attenti anche qua Ora possiamo andare a modificare l'assetto Ok Ok Componenti auto danneggiati Io qua non posso fare nulla Ripeto Fatto non posso fare nulla Ok Però con patato Un po' di jed Vai spara Qua almeno andiamo con qualcosa di più Buono Ah migliora dopo la pista Ma il podio di jed Ma come cazzo Scusami Che gara è stata Ah beh scusami Tu sei da 7000 7000 stagioni Tipo Non fai testo tu Ciao Davi Ciao Mino Ciao grande Grandissimo Caro Tocca rifare un po' le Tocca rifare Per la seconda stagione Le copertine Ok Penso che siamo usciti tra gli ultimi Non è vero Un tra l'ultimino quasi Ok Vai Oh crapoglio non lo so Però proviamo Ma 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 Ciao Marmon Vabbè Basta fare il giro La prima volta Veramente Fra eh Ti giuro Dopo la P6 P8 P9 Di prima Di Singapore Che non è da fa Buona Dentro Sì Marmo A Singapore P8 P9 Abbiamo fatto Ero negativo Solo per Cinque giorni Poi sono tornato positivo E sono ancora positivo Sempre Allora In tutto questo Abbiamo fatto Dodicesimo posto E adesso è il momento Di pensare A cosa faremo in gara Siamo settimi In classifica Eh sì Pato dove finisce In gara Ehm No Già fatto Pato Andiamo dove finisce Patato In gara Allora Ancora una volta 72 E la madonna Che schifo Eh Eh mi dispiace Pato Ti ho mano messo Piove Tanto adesso E va sempre ad asciugarsi Però Va bene Ma come marmo Ma veramente Fai Mannaggia Mannaggia Lo sto facendo Vado in pista Semplicemente perché Magari penso Magari c'è qualcuno La butta fuori E voglio almeno Fare un tempo Andiamo al box Andiamo al box Ok That's E9 Oward ha tanti problemi ragazzi Eh Pensi anche Oward ha tanti problemi Ah La power unit Ora restiamo in pista Restiamo al box Fino a che non Non viene Giù una bella pioggia Eh Non caira tanto la pioggia Ciao Amos Come va Chi è Dave Tutto alla grande Tutto alla grande Siamo stracarichi Qui Stracarichi Stacarichi proprio Perfetti con Con Il timing E adesso andiamo Meno Pista molto Molto Grazie ancora Dave Pista molto Molto Poco Cioè Molto Più buona Aspetta prima Ok allora Pato 27 25 piastre Allora Hamilton Hamilton è fuori Non so che tempo ha fatto però Richard è già dietro Andiamo Pato Lentissimo Schia tra l'altro anche di Piastri su Perfato Appato No non è appato Pato ha problemi Ha problemi Pato ha problemi No Pato ha problemi Cristo santo se ha problemi Pato P10 di Oscar Ma ha problemi Pato E vedete quanto è lento Finisce prima Mi sa la Finisce prima La misalers Mannaggia Andiamo Oscar In P10 Sì Andiamo a fare un giretto Anche Sergeant Sta piovendo Ha smesso di piovere Sta calando tanto la pioggia Tanto sì sì Tanto male che va No raga Ma non piove Ma nella vita Ma nella vita È la seconda gara No 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 Possiamo guadagnare posizioni Già così anche Ok Siamo al limite Per fare il giro Arca Macca No ma Zero Finchè non è Zero settanta No no Finchè non è Zero settanta Non guadagni Forse forse Vai Secondo me qualcosa guadagniamo Comunque Tre No 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 a State calmi, eh Ok, non è fucsia Ma è un gran tempo, eh Nove, dieci, undici, dodici Ed è terzo, eh È secondo Mamma mia, ragazzi Mamma Ma parti primo per capire vita No Partiamo in pool Partiamo in pool No, vabbè, non ha senso sta roba Avete mai visto una po' la prima stagione? Non ci credo Quanto godo che le clerk non converti in pool Manco questa È piastri Piastri In primo Mamma mia Ma Ah mamma mia ragazzi ok scusate stavo facendo un attimo la roba allora si 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 ragazzi se faccio è già tanto ragazzi lo so lo so a interlagos c'è un'atmosfera magnifica i piloti orino sarà devastato poi il brasile ama i suoi piloti e su tutti ayrton senna la sua vittoria interlagos nel 1900 non lo so raga non lo so non lo so raga ho paura e ora vedo fra ora vedo perchè non è facile sto pensando anche a pato eccoci qui la f1 è tornata per un'altra ricca giornata di emozioni è il giorno della gara in teoria partiamo in pole signori non ci credo sembriamo ma esatto è un po' come magnusen è un po' come magnusen allora ragazzi io credo che devo fare una roba devo andare devo andare a comprare un componente oppure pato speriamo che no forse no no allora pato deve fare ventesimo meglio però ragazzi era veramente lento pato no no non faccio queste cose fra devo solo devo sperare che qualcuno qualcuno si ammazzi perchè tra 18 giorni tecnicamente arrivano arrivano i soldi degli sponsor lo lascio a morire dai lo lascio a morire lo lascio a morire lo lascio a morire via dai va bene lo mettiamo ancora con tanta meno con molta meno benzina gomma soft così andiamo a fare una rotta andiamo a rompere i coglioni agli altri stiamo così grafico tracciato dice che non piove no? non piove si stiamo così ok 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 allora qua vado di soft un po' come autobomba no 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 non si dice no no con meno benzina vai forte fra con meno benzina vai forte molta gestione adesso chiamo meno un po' meno ok vai forte forte con meno meno eh almeno prima abbiamo provato questo andava molto forte nel primo stint ciao Mattio grazie ragazzi 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 non ci credo che partiamo in pole duriamo due curve ma va bene così le squadre stanno completando le ultime verifiche ormai non manca molto alla partenza della gara questa gara sarà l'occasione di valutare le ambizioni di Valtteri Bottas aspirava a qualcosa di meglio della P21 ma potrà rifarsi se riuscirà a dare il meglio di sé ricordate può accadere di tutto in Formula 1 eh anche che la la Tatum fa la pole chi vincerà è questione di guarda via eccoci qua spaccato tutto dai che duriamo una curva siamo durati meno di una curva Cristo letteralmente meno di una curva e va bene e facciamo motosport bravo comunque non siamo ultimi ancora cioè non siamo non siamo scesi troppo bravo Pato sorry we need a bit more lift off where you can copy allora ok quanto consuma la gomma rossa wow oh come gasly six ten ahead no penso che sia era amelina era amelina ok è tutto ok è tutto ok abbiamo il DRS abbiamo il DRS mettiamola così dai che bello il DRS vediamo il lato positivo ok on zoo is next andiamo a tenerlo sarebbe fantastico è andato via forse no sì 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 da marmo pastrola anche giusto giusto dove vogliamo andare sta giusto ha migliorato tanto purtroppo raga quello è sogno non era un sogno non si poteva fare molto abbiamo abbiamo ancora il DRS purtroppo sono tutti attaccati il fatto va bene così dobbiamo perdere forse stroll forse stroll forse stroll stroll è buono 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 Bisogna aggrappare l'uomo Ok Infatti sono andati via davanti Bisogna aggrappare l'uomo Ok Eh per una strategia aggressiva monetto Questo è un po' più aggressivo Questo per essere un po' diversi Tant'è il non fare ventesimi E' peggio Tutti qua Tutti via Ah Vabbè hanno dato via Ah DRS è qua? Abbiamo perso il DRS Non ce la facciamo Sì sì due soste come gli altri Purtroppo ragazzi non abbiamo Eh soffriamo troppo Vabbè sì ma stiamo Mangiamo le gomme perché stiamo veramente Eh vabbè qua tutte adesso Mangiamo le gomme perché stiamo Abbiamo provato qualcosa di estremo Cioè altrimenti non consumiamo poco Allora rispetto a loro consumiamo il 20% in meno In più di gomma Però è normale anche Eh te l'abbiamo provato Nessuno che rompe Eh il passo è quello Eh ho provato a fare qualcosa di diverso Non siamo da punti lo sappiamo Quindi ovvero È normale dai Ok maximum focus on cooling down those rear tires Anciso ancora un pochino Poverino è un po' triste Piastri Prendiamo tantissimo in tutte le parti della pista Non voglio ritirarlo Pato I ho potuto 2 secondi ahead ho provato tanto sapevamo che facevamo il gambero ma comunque non è durato un giro guardiamolo 1,2,5 ok vanno se ne intendono in realtà credo che tanto verremo doppiati due volte con uno guard quindi andiamo con media si possiamo provare a fare undercut più o meno allora si dice siamo con i tempi di Tsunoda vabbè dai va bene era una sprint cioè quindi ci doppia due volte però ancora pure peggio sì siamo lenti siamo lenti in questa pista pure siamo lenti siamo più veloci di Ricciardo in questo momento è strano non riusciamo manco a prendere quasi il DRS di Sargent no pato pure doppiato no non è cominciato assolutamente siamo sempre nella prima stagione anzi Maverick siamo riusciti da arrivare in zona punti a Singapore P8 P9 abbiamo fatto adesso abbiamo fatto strategia diversa siamo addirittura siamo addirittura partiti in poli in questa gara con una no con una roba folle fatta folle folle veramente senza nulla senso 125 per Xbox eeeh non abbiamo il passo per fare per stare lì davanti chiaramente quello il problema Forse l'abbiamo tolto L'abbiamo tolto da DRS Bene Hamilton by box Esce Tutto bene amici Spero anche te Sta davanti chiaramente lui Non di tanto in realtà Ma non di tanto Però 7-1 Potente mango Sì, si è fatto come mango Esatto Gravi Daniel Lerz di Howard Ma i Mercedes non sono mai veloce Pato ha stato già doppiato Pato Comunque non vorrei dire Ma è stato già doppiato Vabbè Mi hai fatto appassionare così tanto a sto gioco Che alla fine l'ho comprato Grande fra Grazie E mi fa un sacco Ma sacco Un sacco Un sacco Piacere Grandioso Il testo è 0 Io ci credo Io ci credo in qualcuno Che si Che si ammazza con Pato che guadagna Quelle due posizioni Che gli permettono di guadagnare Quei 400.000 Hulk con 22% di gomma Adesso 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 Niente Va bene Non riusciamo a passare Oscar Piastre Cioè Valtteri Bottas Bello se giro Bello E niente Crolla Tutto Dodici E sette Va bene Anche lui Sta davanti Ma che cazzo Da più di un mese Monetto E io non spero Che scoppi qualcuno Che cazzo Grazie Grazie Dai dai Dobbiamo restare qua Giù davanti Non si può vedere Giù davanti E adesso Stiamo facendo una buona gara Banano Quella 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 Che stava a casa con me Oh 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 Non so bene Cosa sia successo Oh Non mi dà Non mi posso Non mi posso andare a penalità Non esiste Io non ho visto niente Sì 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 Già da Già da Da più di un mese Tutto bene Oh Tutto bene Quello che finisce bene No raga Non va Io ragazzi Voglio Voglio arrivare Alla fine Che tanto Tanto le componenti Comunque Non è mica tanto ci credo Però Però bisogna Provarci A To To aaa niente avdol Un bel rustle Vabbè ma poverino Pato L'ho messo male Con i componenti Poverino Lasciamo stare Vanno troppo forte Ste cazzo di Ste cazzo di Di racing bull Vanno troppo forte C'è niente da fare Raga Andiamo avanti così E via Oh We don't need lift off L'objet on Tios please Scusate va bene Scusate ne è passato Adesso Perdiamo tempo Saremo doppiati Due giri Ok Media Andiamo con due soft A noi basta fare P16 Andiamo con un'altra media Poi una soft No Comunque Spingiamo ancora due giri Allora Spingiamo ancora Or a high speed Management if you can Sì Capito In questo giro Ah si, proviamo tanto 1, 2, 4, 6, 5, ok Soft, media ancora Ottavi, bene Copy, boxy slap Copy, boxy slap Vediamo quanto riusciamo Ah ma il P20, madonna santa 3, 8 Vediamo 3, 5 Fermi, 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 fermi Chi? 2 cars out, sono Magnussen e una stake È la seconda gara Uuuuh, uuuuh, uuuuh Oh, abbiamo un incidente Nessuno? Niente, no, nessuno si è ritirato, va bene Credo che farà una strategia diversa comunque con Joe Perché Magno se ne va in box, magari ci mettono un po' Magno se ne è qui Ciao, mio mister Pico, ciao Pare che non abbiano danni Ok, via Andiamo Tutto bene, mister Pico Spero anche te Andiamo avanti così Buonanotte, grazie Luca Buonanotte a te Grazie per aver stato qua Tutto il tempo Comunque Award effettivamente ha problemi di Hearth Devo metterlo un attimo su ottimizzato E ha problemi di Hearth che lo scarica da solo Ne ha poco 13,8, molto bene Gli altri vanno con gomma diversa Eh, vedi Stiamo lì, stiamo Dai, non è ancora finita per questo motivo Per questa Per questa Per questa posizione Miracolo sarebbe Grande, mister Pico Madonna, non è più Povero Bato Poverino Andiamo ancora Ok Luma media E via Fox, Fox Ok You're good to push Push, push Dai, abbiamo gomma più nuova rispetto agli altri L'unica cosa che mi viene a pensare Non abbiamo fatto una brutta strategia di corsa Di rincorsa Abbiamo lasciato le gomme là Abbiamo lasciato Poi, abbiamo lasciato solo le gomme là Abbiamo lasciato le gomme ici Ho veloce Ho avuto l'unica Vabbè, abbiamo un'altra possibilità di rompare If you are'MG Ok, andiamo tranquilli con 1.7, 3.35 Sto andando forte 15.9 Vabbè, niente Una volta che devono ammazzarsi non si ammazza nessuno Eh no, ma al momento non ci torno Non ho programmi Uno 10, quell'altro fa Seppellitemi Seppellitemi Ma come al massimo è inutile Un momento, ti dico la verità Tanto l'obiettivo forse è arrivare davanti a Est Ma non ci dovremmo riuscire Una volta che passiamo Gasly Oggi non ci ha voglia di passare Oscar Vabbè Oscar C'è voglia Oscar Oh Head die Oggi 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 Get your head down, you can do this, come on Copy Huh He's got energy, copy Copy I don't remember when the next garage is in the interior Non si può dire che non ci ho provato con un coso Ci ho provato ragazzi con Con Award Andiamo a prendere Esteban così Copy Reduce the lift to coaster Copy Padre a posto Mi Maggie His Dio Acordo Lo allen sciences pol Monica Com'è le tigre? Cuoco sull'interno del jeep Sì, capito Dai, bene così, dai Andiamo via Andiamo Finiamo così, dai L'abbiamo provato Non ha funzionato qualcosa E Non avevamo passo Ci siamo presi 43 Ci siamo presi 11 secondi da Ocon Ma in generale ci siamo presi 15 secondi No, ci siamo presi Un minuto da Tsunoda Che era dietro Va bene Va bene Va bene Non potevamo fare veramente di più P14, P22 Mi dispiace per Pato Ciao Ciao Buonanotte Fravona Va bene Altra squadra Era al loro livello Quest'anno Vi sicuro I tifosi di Verstappen Ora staranno festeggiando Il loro idolo Altra vittoria Altro trofeo E a questo punto Cominciamo a perdere il conto Mannaggia 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 Vabbè dai Ci sta Qua cos'è che è successo Alonso passa Tsunoda Ok Aston Martin che si è un attimo ripresa In questa Vediamo un po' se qua abbiamo fatto qualche punticino No Nulla Mannaggia Nulla Ci speravo Dai Incredibilmente Non siamo andati in negativo Ancora una volta I ragazzi hanno fatto un buon lavoro In teoria adesso dovremmo ricevere anche dei soldini Pato Migliora Attenzione Bravo Pato Dai andiamo a vedere componenti che non saranno buone per niente Aspettate un attimo Prima di andare In teoria Prima andiamo a vedere che cos'è che non va Installa ricambio Possiamo farlo Ok Installa ricambio Ok Installa ricambio Ok Installa ricambio Ok Bene 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 Questo vuol dire Produzione Abbiamo solo una sospensione 8 giorni 300.000 Se ne vanno Sotto scocca Ma abbiamo solo due Una produzione Sotto scocca E c'è 700.000 Se ne vanno E andiamo con un milione e nove Va bene Per forza